Carlo Donalcatten, la vita e le idee di un democristiano scomodo. Donalcatten è sempre scomodo, anche quando durante le elezioni di un Presidente della Repubblica, Saraga, riesce ad essere il franco tiratore più originale della storia del primiturale. Presidente Donalcatten, democristiano scomodo, lei che scomodo non l'è mai stato nel derby tra Draghi e Berlusconi al Colle, un po' ci spera, dai! Buon lavoro! Ciao! Dai ci spera, ha fatto parte della Casa delle Libertà, candidato nel PD a Bologna, non ci dice di no, dai, ci spera! Un saluto Presidente!